Dai, invadiamo subito! Invade! Da sotto, invade! Tutto Garen, we don't need the matcha. Anzi, in realtà sì, abbiamo un monolux. Boom! Visto? Comunque io devo mettere con Kindred sempre la taglia sul support, perché è sempre lui che muore per primo. Vedete? We already had the matcha. With Lux. Allora. Abbiamo detto Lethality, e quindi possiamo comprare solo gli oggetti che fanno parte di questa categoria. E un oggetto con cui partire è molto bello potrebbe essere questo. Bazed. Upilux. Ha fatto un'ottima Q quella Lux. E anche un bruttissimo flash. Quella Morgana. Ok. Ok. Molto bene, molto bene Tracotanza primo oggetto Però purtroppo la tracotanza Diciamo che Fa un po' strano, no? È un oggetto, diciamo, deboluccio Se non ti fidi un po' Potremmo gankare già la mid Vediamo la taglia, anche Non mi chiamo more di red Ho preso il carretto Non ditelo a nessuno Rubato Ho rubato Tanto non se ne è accorta Anche perché poi il destac Gli le dà comunque Quindi In realtà è worth Peccato per quell'oione Che è rimasto con un pizzico di vita Se no era già anche Una Un marchio per noi Adesso dobbiamo essere fortunati E sperare che spawni qua il marchio Anzi, forse è meglio se spawna In bot Perché Eh sì, esatto Ho spawnato in bot Perché Qua ci sarà sicuramente l'ice Io non ho il flash Sono l'ovita Quindi vado a prendere quello bot A caccia di marchi Mi ha visto Camille Quindi mi stanno vedendo Che sto dando bot Mannaggia Non fa niente Si va lo stesso E poi possiamo Un po' anche Gancare bot E si mette La taglia Su Morgana Sì Ziggs è quello Con meno vita Però Morgana Non ha il flash Ziggs non lo so Forse era meglio Ziggs Vabbè Era meglio Ziggs E me ne è morto Io pensavo che Ziggs con quella vita Se ne andasse via Impaurito dal fatto Che aveva poca vita Però in realtà No, se la mettevo su Ziggs Se ne andava Perché vedeva la taglia su di sé Capiva che stava arrivando E se ne andava sotto torre Probabilmente Quindi Mi sa che in entrambi i casi Non lo prendevo Forse è stato meglio così Non l'abbiamo intimorito E siamo riusciti almeno A prendere la kill Chi lo sa Cosa sarebbe successo Il mio score E lo score della partita Elise era qua Forse potrebbe cercare Di prenderci I piccioni Ho lo smite Ma ce lo teniamo Per questo campo Che è spawnato Vediamo se riusciamo A invadere Vai Non penso ci siano World qua Siamo in bronzo Meno prima no Però in questo game Magari sì Buono Allora Se Elias è intelligente E purtroppo lo è Arriva Qui Oh ho preso La taglia di Elias Ammeno Buono Vai vai grump Sparale Sì La guerra per il grump Ragazzi Ok Andiamo Non penso di arrivare in tempo Adesso Lo farà Quindi andiamo Nella sua giungla top Così spawna L'altro campo E gli prendiamo quello Facciamo prima questi Con kindred È divertente Perché è un invade continuo Ok Facendo quello Abbiamo due smite Quindi stavolta Lo usiamo Alla fine Tutte le mie kill Le prese Sempre Morgana Qua la taglia La mettiamo Su Mettiamo Lassù Ione Adesso vado qua Perché Arriva Elise Che sicuramente Si fa il giro No Non arriva Non arriva Ragazzi Eccolo È spanato Il campo Dimmi che non arriva Elise Grazie Bene Elise Ebot Perfetto Si è dimenticata Abbiamo anche lui Con la taglia Però Piano piano Eh Se arriva anche top Niente Ci facciamo Questo bel campino Poi Allora Sicuramente L'Eyes Andrà al top Immagino O forse Mi ha invaso È possibile Chi lo sa Se mi ha invaso Potrebbe anche Essere Senti La loro paura Oh Ok Forse potremmo Mettere una taglia Sipo su Zix Bene Siamo sempre Nella loro giungla Bene 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 Ci prendiamo anche Questo Io ero venuto Qui per questo Sono a 4 stack A posto E ce ne andiamo Easy peasy Ragazzi Sono a 5 stack Fatte Nella maniera Più facile possibile Sinomi Buona sera E ben arrivato Così non ti perdi Nemmeno questa live Di solito a quest'ora Stacco già Ragazzi Però purtroppo Sono arrivati in ritardo In live Quindi continuo Un altro po' Quindi Vi è andata bene Per chi si fosse perso Gli aggiornamenti Stasera abbiamo giocato Un'altra partita Con Scarner Abbiamo fatto la sesta partita Purtroppo non è andata bene Non so più che cosa Fare per questo Scarner Purtroppo Ma vedremo E poi ho fatto i pick Scelti dalla chat Kill San si dà il caso Che abbia donato 10 sub Quindi abbia scelto Addirittura una Duo troll pick E ha scelto Ari Yumi Poi ha fatto la sub Di livello 3 E ha scelto Zilean Laserata Adesso stiamo facendo Il pick di Mogu Mogu Allora Scarpine Scarpine attack speed Direi Poi altre letality Purtroppo non esistono Le scarpe letality Ma dovrebbero Secondo me Perché esistono Le scarpe magic pen E non vedo perché Non possono esistere Le scarpe letal E che cazzo Sarebbero belle Di che colore Che cosa raffigurerebbe Come sarebbero raffigurate Io lo so Allora Sparato un campo Molto lontano Dubito di riuscire Ad arrivarci Quindi vedremo E anche io L'immagino rosso appunto Perché appunto La letality è così Oh ciao Ludovico Come stai? Buonasera 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 Ben ritrovato E quanto dura Questa è? C'è Infinita Finisci Rodney 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 Grazie Ciao Dragon Ball Ciao Dragon Ball Ah con un trapano Eh il trapano già c'è Tipo l'oggetto per fare Il cielo infranto È un trapano Ehi là Sono qui per riscontrare Sia la tua taglia Che quella del tuo campo Due taglie in un secondo Mettiamo anche su Morgana Già che ci siamo Eccola lì Brava esci Esci Brava Esci dalla ulti Kindred Ho preso la plate Ho preso pure quello Ma che cazzo sta succedendo Ok non posso Mettere la taglia su nessuno Ragazzi Abbiamo ammazzato troppa gente Calma 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 Ho 8 stack Di passiva Il che significa Che ho un range aumentato Di 2 volt Di 100 aumentato Te ne conta solo uno Purtroppo le taglianci due No 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 Me le conta tutte e due Perché infatti Sono arrivato a 8 Mi conta questa qua Del campo E sia quella del champion Adesso Non posso più metterla Su un champion Per un tot Però Calma calma Adesso la mettiamo Ecco qua Zix In arrigo taglia Pronti per fare la nona Eh lo recuperi nel VOD L'abbiamo raccontato Non ti preoccupare C'è tutto Per i veri fan Che si guardano i VOD Scopriranno tutto Come Zawitti Che salutiamo Ciao Zawitti So che sei qui Se stai sentendo queste parole Scrivimi su Instagram Che mi vuoi bene E che le stai a lei Sentite tutte Bene qui Gtecom Grazie mille Il video degli 8 mesi Era un po' che non ti vedevo Come stai? In sostanza Che è successo? Te lo racconto velocemente E Praticamente Te lo racconto io Perché Prima l'ha raccontato Margie Che l'ha raccontato meglio Visto che l'ha vissuto lei Però te lo racconto anch'io Senza problemi Praticamente Che è successo? Abbiamo sentito urlare C'era una signora Che stava urlando Perché Il suo cane Stava venendo azzannato Da un altro cane Anzi Da altri due cani Due pitbull Che erano senza guinzaglio Così E il padrone di questi due pitbull Ha detto Dai venite venite Andiamo via Adesso torno subito Un attimo E invece è scappato Praticamente Non è più tornato Per fornire assistenza Anche perché ovviamente Dovrà sborsare un po' di soldi Se viene denunciato E niente Questo è quello che è successo E adesso Io mi faccio il drago E nessuno Me lo toglie Perché questa è un'altra stack Arriviamo a dieci Ragazzi Capite Dieci stack Quindi ho il range Amentato di 125 E se uccidessi Ione Ancora di più Ione sta tippando qua Perfetto Bravo Ho tirato un attacco A un minimo Mi sa Sì L'ho presa ragazzi Siamo a 11 Eeeh Tripla Ok 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 Che ne dite di un collector Anche l'arco di assiamo Per ultare continuamente Con kindred Sarebbe molto strano Però sarebbe divertente Danazione grave sta cosa Eh sì Anche perché è illegale Tenere i canni Non al guinzaglio Quindi Si dà il caso Che comunque sia Alla fine Si è scoperto Chi era sto tizio E quindi Cazzi suoi Vediamo come andrà a finire Marghe detettico Esatto Marghe lo conosceva Ha cercato il suo Instagram Me l'ha trovato Easy peasy Mi farei leggere Non fottono con Kijurab Ma in realtà Non fottono con Marghe Cioè Con me potevano anche fottere Perché io non lo conoscevo E io non sono di qua Oh istoi Non dirmi che te la stavi per perdere Sono troppo veloce per te Elisa Eh allora ma cosa Non hai preso la taglia su Camille Effettivamente Anzi non l'ho proprio mai uccisa Oh quanto sto fermo Ah che Marghe Storker Sì Eh vabbè ma Se tu Vivi in un paesino Conosci la gente Che pro Che pro Anch'io per esempio Conosco Tutti i bolognese Fossimo stati a Bologna Conoscevo tutti Cioè anche tu che mi stai guardando Da Bologna Ti conosco Sai Quindi Cioè Capite Sono velocissimo Kinder velocissima E taglia fatta Attenzione Sono 12 stack Alla prossima Ragazzi aumentiamo il range Di altro 25 Ahia Un attimo Posizione perfetto Flash un po' meno Ma sono vivo Raga Veramente Veramente mi è andata di cuore Perché io non conosco nessuno Ah ok Allora Cosa ci prendiamo qua Facciamoci questo Per andare veloci Però il Collector È carino in realtà Poi il Collector Potrebbe uccidere il lupo Capito Voglio provare a uccidere Una persona di lupo Quando lo lascia Con poca vita Poi il mio lupetto Fa Gnam E l'ammazza E lui non se lo aspetta Ma come mi ha ucciso Stava fermo Ho letto 2kp Potrebbe essere Ragazzi comunque siamo 17 sub su 20 Per completare il daily sub 2 E farei massaggino a marghe Ma questo è l'ultimo game Quindi avete gli ultimi Pochi minuti Per abbonarvi Con quel prime Bastano 3 sub You could have saved me there Garen Fucking team Amma mia Che team di merda 7-1-12-5 Fate proprio schifo Eh Bastardi Fate massaggiare Se lo merita il massaggino Ragazzi Però se non facciamo 3 sub Non glielo faccio Ok Ok Attenti me ne frega niente A me di là Voglio uccidere Ziggs Ciao Ziggs Madonna Esploso Ho 35 stack Di questo Su chi cazzo Lo metto Su Ione Boom Sai che farà fatica A uccidere uno Con la doppia V Ehm Mortinare è stata divertente Sì sì E qui dietro E qui dietro E qui dietro E qua E qua E qua Ma come ha fatto Vabbè Vabbè The god Attenzione Robix Torna Con la sub Grazie mille Robix Just in time ragazzi Mancano solo due abbonati Per il massaggino Amarghe Amarghe Ok 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 Dove cazzo è Ione Porca troia Madonna Dall'altra parte Della mappa Corre Attivare Lo Yomu Corre 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 Super speedy 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 Tipo meno 24 per 20 kill Sì esatto C'è il countdown Il massaggino Altro che il countdown Delle 30 kill Ehi Oh Forte il ragazzo Ma porca troia Ammazzalo tu ti prego Così mi prendo Dai ugly chihuahua Una disfatta totale Non so se mi riprenderò Dopo questa Visione Facciamo questo dai Ho bisogno di un po' di vita Oh attenzione Comunque Robix se ci sarà in live I prossimi giorni Ti ricordi quando arrivavi in live Subito A inizio live Che facevi le donation Ecco abbiamo un po' di Arretrati da Da rendere Delle cose molto potenti Poi in caso i prossimi giorni Se ci sei Vedrai Ok Ok Tic 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 No Come kindred Cambiamo target Per piacere Perché questa qua Non riesco a uccidere Mettiamo il Giz Che muore sempre 171 Quante stacco Ho 13 Quindi ho 100 50 No 175 di range in più No 150 di range in più Quindi mio range è 650 Quanto range di catering adesso Attenzione Robix Eccole qua 5 sub Mamma mia Neanche hai voluto aspettare I prossimi giorni Grazie mille Robix E hai sbloccato anche Il massaggino per Marghe E allora prima di staccare ragazzi Ce ne andremo con un bel massaggino Cioè Con un ASMR notturno Per la buonanotte Grazie mille Robix E dato che hai donato queste 5 sub Hai diritto anche a scegliere Un pick Che io dovrò giocare I prossimi giorni Per questo ti dicevo un po' di arretrati Quindi pensaci bene Robix E' stata pure sbloccata Grazie all'efficienza di un moderatore potentissimo Di nome codice bar Che pensavo stesse dormendo Invece sveglio La delisab 3 signori Guardatela là Prossima live Un'ora in più di live Però Per oggi ci accontentiamo Ok Pensaci Robix Così magari i prossimi giorni Me lo dici Let me free from this suffering What a team Robix non sarei fatto dire due volte Esatto Per quanto riguarda l'ora in più Ve lo spiego adesso Così lo sapete anche per le prossime volte Poi lo ripeterò in caso Praticamente come funziona Io non è che faccio un'ora in più Alla fine Faccio un'ora in più all'inizio praticamente Cioè attacco un'ora prima Invece che attaccare le 22 Attaccherò le 21 In caso dovesse mai succedere Facciamo un'ora in più Quindi invece che fare Tre ore farò quattro ore Attacco un'ora prima Ok Ecco qua la tua sofferenza Non c'è più Elise comunque Mi sa che è andata af Perché io da quando le ho messo la taglia sulla testa Non l'ho più vista Ancora 171 Quindi sto perdendo solo tempo Un applauso Puoi togliere la cena Ma non il chill In uno dei suoi survival È vero Ludovico Ma come dici queste cose? Ah dici dopo la live Perché c'è il chill Ah no 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 In realtà non c'entra per quello È solo che Cioè continuare la live Fin alle 2 di notte È peggio Perché se la vedono meno persone Cioè Guarda adesso sono Sono le 2 di notte quasi E siete in 92 Cioè Di solito Quando Streamo agli orari Normali Invece che streamare tipo Alle 2 di notte Ma tipo Dalle 10 di sera in poi Ci sono più spettatoi Capito? Ve lo dico solo per quello Cioè è inutile che faccia un'ora in più di live Se poi tutti stanno dormendo Preferisco fare un'ora in più di live Quando la gente sveglia Servirebbe un vice complice Esatto Isto è perché Beh vi sto facendo Praticamente tutti gli spoiler Allora Come funziona? Ci sarà Appunto Una lista Di cose Ok? Ad esempio Esattamente come nella maratona Cioè Quello che è nella maratona Lo diventerà Per sempre Esattamente come volevo essere Come voleva essere la Come si chiama? La Cosa sto dicendo? Aspetta Come voleva essere la La maratona Le sub donate 20 morti 20 sub donate Ok? Cioè praticamente voi potete proporre Proporre delle challenge In base a quante sub avete donato Come funziona? Io pensavo per la 20 morti Di provare con marghe Visto che tu ne hai ancora una Che avevi riscattato Magari possiamo provare Le marghe A lei di solito queste cose Non piacciono Perché le mettono L'ansia Però proviamo GG ragazzi Intanto abbiamo stravinto Con questa Kindle Delle tanti Di mogu mogu Grazie mogu mogu Spero vi sia piaciuta È stato molto intenso E adesso ci prepariamo Perché insomma È il momento Di un super massaggino Agri Chihuahua Vai Anche perché poi io Alle due Sono stanco